Io considero le opportunità appunto date dall'amministrazione condivisa che sarà il tema di cui tratterò oggi come un trampolino di lancio verso una nuova tipologia di welfare che in qualche modo va anche a compensare, a complementare quello tradizionale in qualche modo pilotato dallo Stato e dalla pubblica amministrazione creando nuove opportunità soprattutto di legami sociali. Quindi in questo senso dovremmo essere noi capaci di sfruttare queste nuove prospettive soprattutto per creare, per ricreare uno spirito di comunità nei piccoli e nei grandi comuni che in qualche modo vanno a sopperire ai bisogni sociali dei singoli individui. Quindi anche combattendo questo lungo periodo che c'è stato, che ha portato molto a un'individualizzazione sia dei percorsi personali ma che ha anche portato alla segregazione delle singole persone e dei singoli bisogni. Io sono un ottimista, nonostante i tempi e le dinamiche che ci caratterizzano ho sempre pensato che c'è necessità di promuovere e quindi spero che questi eventi ma anche la ricerca futura sia indirizzata in questo senso per creare coscienza, conoscenza e anche azioni nuove.